La rock che parla di autismo con lo spettacolo Tommy Sul palco del teatro Mecenate di Arezzo sono infatti saliti 9 musicisti, 20 attori e 10 ragazzi autistici per il musical che segnò la consacrazione mondiale dei Ubi Un progetto dell'associazione Autismo Grosseto Iron Mame accolto a braccia aperte dall'associazione Autismo Arezzo Tommy racconta la vita di un ragazzo diventato cieco, sorto e muto per un grave trauma subito in famiglia ma che trova il suo riscatto nel gioco del flipper Da lì nasce un percorso di recupero e esempio per altri ragazzi che hanno problemi Una storia dunque senza tempo di riscatto contro soccrusi e emarginazione dovuta alla disabilità Grazie Grazie Grazie